Il mio rapporto con Slemix nasce come fruitore, nel senso che sono un paio d'anni che vengo qui a sentire le serate, poi sono diventato amico di Andrea, abbiamo già fatto delle cose insieme, mi ha invitato a partecipare qui stasera in qualità di performer, per me è stato molto bello perché comunque il passaggio da spettatore a protagonista di un palcoscenico è sempre un passaggio che ha il sapore della complicità, in questo caso è la complicità con una realtà molto bella, con delle persone molto intense con cui è bello condividere la propria storia, il proprio percorso e in questo caso le mie canzoni. Sì, io sono qua anche perché in questi giorni è uscito il mio nuovo disco, si intitola Armi ed è un disco a cui tengo particolarmente perché è un disco che è nato proprio in questa città, Milano, vivo qui da tre anni e devo dire che questa città con i suoi slanci e le sue complicazioni ha sicuramente contribuito a gettare un po' le coordinate di questo nuovo lavoro che è un disco che ha sicuramente dei connotati più urbani rispetto ai miei lavori precedenti che erano bucolichi. Bucolichi... 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 Bucolichi...